Rossella, questo è il laboratorio donne, anche questo è un bel luogo, vedo che stanno lavorando e trascorrono diverse ore qui dentro. Sì, diciamo che è quasi l'intera giornata, stanno a contatto con le nostre educatrici e animatrici, insieme a loro realizzano lavoretti manuali, in questo momento stanno realizzando dei cestini e delle cornocopie fatte con la carta, quindi con la carta reciclo, della gazzetta dello sport, giornali vari. Grazie a questo momento di incontro intorno a questo tavolo, loro riescono ad esprimere le proprie emozioni, riescono a tirare fuori le loro problematiche per poi intervenire insieme ai servizi alla persona, quindi all'assistenza sociale e psicologica. Quindi questi lavoretti che sono esposti qui sono per loro, fatte con carta, con materiale semplice? Sì, sono lavoretti realizzati con carta e colla, semplicemente. Grazie a questo, la carta utilizzata con la colla e l'acqua si crea una patina così rigida che gli permette anche poi di utilizzarla all'esterno, nel senso che ad esempio loro realizzano delle borse, realizzano dei cestini che si mettono all'interno delle loro abitazioni come decori vari, vengono utilizzati come sottopiatti, qualsiasi tipo di utilizzo ne vogliono fare, grazie a questo lavoretto riescono a utilizzarlo, anche perché tutto ciò che loro realizzano lo portano a casa. Noi teniamo giusto il campione per far vedere quello che abbiamo realizzato all'interno del laboratorio. Oltre a questo hanno realizzato anche dei vestiti con delle diverse tecniche, particolarità di questi vestiti sono che loro, in pratica sono state realizzate alcune donne pakistane, da una donna irachena, e una particolarità rispetto alla donna italiana e quella che loro non utilizzano forbici ma strappano la stoffa.